buongiorno oggi dalla vetta del montorfano siamo esattamente a 567 metri e la lace milano lì c'è il lago di montorfano qua c'è una bella rocky mountain instinct power play carbon 90 bc edition tantissima roba 29 140 160 montata da poveri con i due cascima fox 36 due factory e solo con marco orsenigo pilota top di di enduro si rave di squadra chiaramente si vede l'enduro elettrico e anche enduro normale domani fa anche una gara di enduro moto e adesso ci facciamo la delirium vediamo com'è sta delirium siamo provincia di como ieri c'è stato il diluvio universale con un tornado che ha fatto un casino sui trail e questa è bella ripidella e stassatella passaggio come si può sentire c'è attimino di impegno qua c'è un po di roba per terra tra rami e cose strane qua c'è un passaggio proprio da johnny trial che infatti mi ha colto di sorpresa dalla scassata questa delirium non me la ricordavo si ricordavo così scassatella porca roca bobbia strappettino tecnico per terra c'è qualsiasi cosa sto provando questa rocky mountain grazie a ridewell.it che quindi è un breve test ma già si capisce che è un mezzo super super figo anche perché è un carro cortissimo da 44 e qualcosa motore dynamè da 108 newton metri in coppia che è un'esercizio ed è di una maneggiovolezza spaziale sembra proprio una bici normale che appunto era era l'intento di rocky mountain di fare la versione elettrica della propria bici da enduro instinct e anche poi dell'altitude che è l'altra qua mi ricordo che c'è un punto molto ripido chiaramente la gopro schiaccia ma tipo qua è meglio non prendere troppa velocità qua esatto passerella mortale e poi guardi la sponda finale cercando la salvezza bella comunque sempre bella un po' di carreggio qua insalata in mezzo alberi è venuta male nooo ma cos'è sta roba nooo aiuto delirio eh oggi oggi va così esatto delirio sulla delirium tagliamo un attimo ah è praticamente il trail era finito ed eccoci qua bene con qualche disavventura io ho trovato questo pezzo che potrebbe essere di qualcuno che è suo è mio va bene bella quindi questa era la delirium e ci siamo divertiti e basta alla prossima sempre un piacere come un proseguimento si taglia uno e casco acceso e luci allacciate luci accese anche di giorno campanello yeah boy oh oh è è le è i è Grazie a tutti